che sta per saltare il base jumper, questione di qualche secondo, tutti con la testa in su, guardiamo a questo volo si lancia come un paracadute normale, quindi farà un bel salto nel blu, dopodiché aprirà un paracadute che non è un parapendio è molto diverso, la discesa è molto più rapida bisogna tenere la gente via dal campo perché arriva tanto forte tutto ok vedete la differenza di forma tra il paracadute e il parapendio, il paracadute è molto più piccolo, molto più rapido nella discesa attenzione che arriva velocissimo qua, attenzione bravissimo e precisa ti aspettiamo Grazie.